Ha un nome ed un cognome, il primo argentino della storia del Christian Barletta che si tinge di albiseleste e si assicura in vista della seconda partecipazione consecutiva al campionato di Serie 2, le prestazioni di Gaston Bueno. È un giocatore di grande esperienza, compirà 31 anni tra poco più di due mesi, è un universale, quindi utilizzabile in più ruoli ed è un elemento dotato di eccellente tecnica individuale, abile nel dribbling e devastante nelle conclusioni di potenza. Può vantare un curriculum di tutto il rispetto, impreziosito dalla semifinale play-off ottenuta proprio nella stagione più recente in Francia con il Beton Futsal con cui ha realizzato 14 gol. Bueno ha indossato in carriera anche la maglia della nazionale argentina, sia under 20 che quella maggiore. In Italia ha difeso i colori di Cadoneghe, Futsal, Sambra, Real Molfetta ed Atletico Acquedotto Roma. Ora, dopo la parentesi transalpina, è pronto a ritornare nei campionati italiani. Nei giorni scorsi, intanto, il Cristian aveva ufficializzato anche l'ingaggio di Javier Zalacain, spagnolo, classe 93 che può giocare sia ad Ala che da Pivot. Sono cinque al momento, dunque, le new entry in casa biancorossa. Oltre a Bueno e Zala, infatti, fanno parte del roster anche gli spagnoli Diego Fente e Carlos Agnos ed il portiere baresse Giuseppe Di Ciaula. L'unico confermato al momento, invece, è il capitano Luciano Capacchione. La divisione Calcio 5, infine, ha ufficializzato le date per la prossima stagione. Il campionato di Serie 2 scatterà sabato 30 settembre. La grande novità è rappresentata dall'introduzione della Coppa della divisione, la manifestazione che coinvolgerà tutte le squadre iscritte ai campionati nazionali di Calcio 5.